ciao io sono soffì soffì non mangia le verdure ciao mi piace il mio nuovo gioco è un set da tè da bamboline carino vero soffì vieni a mangiare è pronta la cena cosa c'è da mangiare minestrone di verdure e poi una bistecchina con le carote allora non vengo ma come no lo sai che le verdure a me non piacciono soffì non mangia mai le verdure e questo non va bene perché le verdure fanno bene già devo trovare un modo per farne le piacere fanci pensare soffì ieri sera non hai mangiato nulla sì perché c'erano le verdure e a me non piacciono per niente ma hai assaggiato solo qualche pomodoro ci sono ancora tante varietà di verdure da provare non ci penso neanche ma perché non ti piacciono cos'hanno che non va perché sono noiose e mettono tristezza ma non è vero che sono triste e noiose e te lo dimostrerò vedrai cosa è veramente la mamma bene eccoci qui ma è un supermercato certo forza andiamo nel reparto autofrutta vedi soffì guarda quanti colori ha la verdura è vero forza scegli delle verdure di colore diverso e poi andiamo a casa a cucinare ok vediamo un po prendo delle zucchine verdi dei pomodorini rossi e delle carote arancioni bene ora che ti sei messo il green violino possiamo cominciare con la prima ricetta ok polpette di zucchine polpette di zucchine certo soffì con le verdure e con tutto il cibo si può giocare usare la fantasia i colori bene soffì in una ciotola mettiamo due zucchine 200 grammi di mozzarella tagliata da lini un uovo due cucchiai di parmigiano e sei cucchiai di pangrattato e ora mescolo per bene ed ora prendiamo piccole porzioni di questo composto e facciamo delle palline leggermente schiacciate va bene così bravissima soffì e infine le cuociamo in una padella che belle che sono sì è molto gustosa vedrai eccole qui però sono un po tristi così beh ma noi le renderemo divertenti e come usando la fantasia per esempio mettiamo la polpettina di zucchina qui nel piatto ci aggiungiamo alcuni pomodorini tutto intorno soffì questo cosa potrebbe diventare un fiorellino esatto basta aggiungere uno stelo e una fogliolina di basilico e gioco fatto wow sembra proprio un fiore con l'altra polpetta di zucchina possiamo aggiungerci degli spicchi di carota ed ecco fatto un bel sole che forte e come ultima ricetta prendiamo delle uova sole e ci mettiamo sopra dei pomodorini tagliati a metà alcuni puntini di maionese bello hai fatto dei funghetti ma come hai fatto oh beh basta usare un po di fantasia il gioco è fatto beh questi piatti sono proprio allegri divertenti e golosi a me è venuta voglia di assaggiarli e tu ora la verdura mi piacere sicuramente di più ciao ieri la mamma mi aveva preparato il minestrone di verdure per cena ma io non l'ho mangiato perché non volevo le verdure ma oggi la mamma mi ha spiegato che le verdure non sono triste e noiose ma colorate e divertenti e con un po di fantasia si possono creare dei piatti davvero golosi e simpatici ciao ciao